Quando credi di averle viste tutte nella vita, alt, ti sbagliavi perché al peggio, non c'è mai limite, mai, 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 oggi veramente terrorismo mediatico, terrorismo mediatico, avete presente quando si dice giornalista terrorista, beh, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo capiti, poi ovviamente mi sono beccato anch'io la mia buona dose di critica, me la sono beccata alla grandissima, alla grandissima, e me la prendo, me la prendo, ci mancherebbe assolutamente. Crucifiggetemi pure, però poi vi dico la mia, giustamente, perché mi sembra doveroso dirvela. Detto questa, siamo passati stamattina dalla minaccia ad Antonio Conte alla smentita della moglie, la moglie che dice no, guardate che è una bufala, come al solito vi inventate tante di quelle cazzate e poi le conseguenze sono drastiche se vogliamo. Alt, non è finita ancora qua, perché poi pare che la società nell'azzurra, giustamente, abbia ammesso che le minacce ci sono state come, ma non indirizzate a Conte, indirizzate alla società stessa, e in questa lettera minatoria comunque si citava anche Antonio Conte, questo appurato tramite l'ANSA. Beh, se per l'ennesima volta si dicono cazzate, io vi riporto, come sempre faccio, sempre le fonti, ve le riporto, perché l'ho sempre detto e vorrei che per una volta nella vita mi capiste. Io non sono un portatore di fonte, non sono un portatore di verità, io prendo le notizie e le commento, le commento. Voi mi direte, però giustamente, Neschio, però prima di commentare le notizie dovresti verificare. Ho capito che devo verificare, ragazzo mio, e ti voglio bene, e ti voglio un bene dell'anima, ma ragazzo mio, la notizia veniva dal Corriere della Sede, dal Corriere, da un'attestata nazionale, che cazzo devo verificare? Non è che io mi sono alzato, una mattina mi sono alzato, sai, esci di casa, vedi il vicino e ti dici, buongiorno Paesano, come sta? Ah no, tutto a posto, ma l'hai saputo che Antonio Conte è stato minasciato? Ah ok, grazie, ciao, 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 vieni, vengo a casa e vengo a fare il video. No, buongiorno ragazzi, il mio vicino di casa, ma no, no, Corriere della Sede, ragazzo mio, Corriere della Sede, capirai che se io devo aspettare un giorno per commentare una notizia, già, già io non vengo cagato da nessuno, figuriamoci, perché, oh, dovessimo fare che qua il criminale sono io con 5.000 visualizzazioni, 5.000 visualizzazioni, criminale è neschio, quando c'è gente che disana, pianta, inventa notizie, fa migliaia, migliaia, ma migliaia, ma migliaia di clic, poi il problema è neschio, eh, il problema è neschio, che dice la sua, dice la sua, sbagliando, quindi, praticamente, soggetto, ma, attenzione, attenzione, perché il discorso ha fatto stamani, resta uguale? Cioè, la morale della favola, resta quello, che c'è del marciume, c'è del marciume incredibile attorno al calcio, si è creato qualcosa di veramente, di veramente inaccettabile, resta tutto intatto il discorso di stamani, cambia solo il soggetto, non si parla di Conte, ma si parla della società, e nella società comunque fa parte anche Conte, però il video di stamani, resta intatto, cioè, la morale della favola è quella, oh, e comunque, nonostante tutto, io passo per un criminale, eh, la miseria, cioè, ma cose dell'altro mondo, ma cose dell'altro mondo, cose dell'altro mondo, ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, vabbè, ma basta, non mi interessa, come al solito, salvaguardare la mia figura, non voglio venire qua a fare l'ipocrita, perché, cioè, magari a volte funziona, anche, sono d'accordo con voi, magari fare l'ipocrita, no, farvi credere frottole, funziona anche, perché sai, hai qua, ma io preferisco avere qualche scritto di meno, però potermi confrontare, potermi confrontare, quindi sto bene così, mi sta bene così, detto ciò, il problema di fondo resta, il problema di fondo resta, perché se tu, veramente, giornalista, prendi e ti inventi ste cazzate, oppure comunque riporti qualcosa di inesatto, su accusa molto importante, eh, non stiamo parlando qua di una partita di pallone, non stiamo parlando di un rigore calciato male, di un'espulsione, no, stiamo parlando di minacce ad una famiglia, ad una famiglia, quindi attenzione, ragazzi miei, attenzione, qui non si scherza più, qui non si gioca più, qui prima di riportare una notizia dobbiamo stare un pochettino più attenti, perché poi nell'articolo c'era riportato, no, è proprio Antonio Conte, proprio Antonio Conte, lui, lui, ha, come si dice, ha esposto denuncia, lui, in prima persona, e questa è una cazzata madornale, alla luce di tutto quello che poi ne è venuto fuori, una cazzata madornale, quindi attenzione, attenzione, poi quando Antonio Conte va dinanzi alle telecamere a dire, no, ma attenzione perché sono proprio i giornalisti, prima a fomentare odio, e lì mi sembra che non abbia tutti questi torti, poi, e lì mi sembra che poi non abbia tutti questi torti, e quindi attenzione davvero, attenzione davvero, e io, ripeto, mi prendo la mia dose di critica per 5.000 visualizzazioni, povero ragazzo, mamma mia, ha alimentato la polemica per 5.000 persone, però c'è gente che inventa le notizie di sana pianta, fa clic su clic, no, loro no, giustamente, loro ci mancherebbe, intoccabile, quindi attenzione, attenzione, capisco, capisco la rabbia, l'irritazione, capisco tutti, ma ognuno facesse meglio il proprio dovere, e magari se ognuno facesse meglio il proprio lavoro, riuscirei a farlo anch'io, riuscirei forse a farlo anch'io, forse sì, forse no, non lo so, fatto sta che noi, specialmente voi che siete iscritti al mio canale, perché la maggior parte di quelli che sono iscritti al mio canale amano il calcio, e noi vorremmo parlare più spesso di calcio, ma di calcio vero, non di frottole minchiate, va bene, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschi.